La giunta regionale su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Veri ha dato il via libera alla procedura per la realizzazione del nuovo ospedale a Teramo, confermando l'assegnazione dei fondi disponibili alla compartecipazione da parte dell'ente. L'esecutivo regionale ha infatti recepito lo studio di fattibilità elaborato dall'Asli di Teramo per il nuovo presidio che prevede un investimento complessivo di oltre 265 milioni di euro. La somma sarà finanziata per circa 122 milioni con fondi statali, per poco più di 2 milioni con fondi regionali e per 141 milioni e mezzo di euro con altre fonti di finanziamento. Nella propria autonomia gestionale l'azienda sanitaria Teramana potrà ora avviare la procedura per la realizzazione del nuovo nosocomio nell'area individuata già da tempo a Piano Daccio, quindi fuori dalla città di Teramo. Un via libera accolto con cautela dall'amministrazione comunale che vuole prima vedere bene le carte dei finanziamenti, mentre rimane ferma la posizione del comitato che da tempo chiede di investire non su un nuovo complesso ma sull'attuale struttura di Villa Mosca. Il solito percorso delle annuncite, di nuovo non abbiamo letto nulla, non abbiamo ascoltato nulla, sono il fatto che noi torniamo a ribadire un concetto fondamentale che non c'è stato mai uno studio di fattibilità delle alternative di sito e di progetto. L'unico studio che si è fatto è stato per Piano Daccio, quindi siamo a rincorrere le annuncite di cose note, di cose che già si sapevano, gli 80 milioni a disposizione, gli altri del ministero, più quelli che mancano per arrivare a una quota di 265 milioni che devono coprire l'intervento che secondo noi non sono sufficienti, cercando di coprire la differenza con un progetto finanziamento. Al di là dei mezzi, ma siamo ancora all'anno zero, perché di fatto le scelte a monte non si conoscono, sono quelle di Piano Daccio, ma adesso mancano tutti gli atti per farla a Piano Daccio, senza dimenticare che quella zona è una zona agricola, quindi necessitano tanti amministrativi per renderla compatibile col tipo di intervento. Quindi siamo all'annuncite, non c'è nulla di nuovo, ma ci chiediamo pure, ma i rappresentanti territoriali, qualcuno nel merito si è pronunciato sull'alternativa di Villa Mosca, dove la possibilità di insediamento di un nuovo ospedale c'è, perché gli spazi ci sono, ma soprattutto che cosa ne faremo di quello che resterà lì? Le idee sono chiare, lo stesso sindaco sta ponendo dubbi in tal senso, quindi non ci resta che dire, stiamo parlando solo di annuncite, di nuovo, di sostanza, non c'è nulla.